Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Granata TV dallo Stadio Comunale di Legnano che lo diamo incontro a Roncalli Bustese. Formazioni Roncalli, Marrazzo, Tanzi, Arrigoni, Longo, Rossi, Moretta, Senesi, Toma, Vissegna, Cercua, Stefanetti. In panchina a disposizione del signor Rimoldi numero 12 Voltolini, Sorvillo, Molinelli, Gualtieri, Squillace, Sponga e Abati. Bustese, classica divisa Granata, Rampoldi, Calizzi, Lombardi, Carradore, Perfetti, Zambarbieri, Gibellini, Foschi, Francesco, Aloe, Armentano, Beretta. A disposizione del mister signor Garavaglia numero 12 Piuri, 13 Meriggi, 14 Oldani, 15 Bergamaschi, 16 Cattelan, 17 Durante, 18 Villacis. Arbiterà l'incontro il signor Carbonari della sezione di Roma, coadjuvato dai signori Gubitosa e Amantea di Milano. Buon pomeriggio a tutti e buon divertimento.